Il giudice di pace di Carrara, Rino Tortorelli, ha disposto l'accompagnamento coatto di Vittorio Emanuele di Savoia per testimoniare al processo, che vede imputato per diffamazione ai danni dello stesso figlio dell'ultimo re d'Italia, Giuseppe Gio Fallisi. Previsto per l'udienza del 10 gennaio 2011, l'accompagnamento è stato disposto, dopo che oggi per la seconda volta l'erede Savoia non si è presentato in aula, motivando l'assenza con impegni professionali. Fallisi 61 anni, tenore lirico e accusato di aver offeso in veste di oratore ufficiale di un raduno anarchico a Carrara il 23 luglio 2003 davanti alla statua di Gaetano Bresci, l'onore e la reputazione di Vittorio Emanuele, ricordando la vicenda della morte del giovane tedesco Dirk Hammer all'isola di Cavallo nel 1978, per la quale l'erede di casa Savoia venne assolto in Francia dall'accusa di omicidio volontario e condannato a sei mesi con la condizionale per porto abusivo d'arma da fuoco. In particolare Fallisi disse che Vittorio Emanuele aveva ucciso il giovane. A denunciare Fallisi fu lo stesso Vittorio Emanuele. Servirà un arrogatore internazionale, visto che Vittorio Emanuele risiede a Ginevra, in Svizzera, ha commentato il difensore di Fallisi, l'avvocato Gabriele Fuga di Milano. Però è già una nostra vittoria, quella di vedere accompagnato con la forza il principe.